Come sempre la collezione numismatica è un grande racconto della storia del nostro paese e ne vuole celebrare miti e leggende. La collezione di quest'anno 2022 ci ricorda momenti di gioia e di orgoglio nazionale ed eroi che hanno perso la vita nel difendere la legalità e per tutelare il nostro paese. Ma non solo, ci parla delle bellezze e delle prelibatezze del nostro paese, i grandi dell'arte, della cultura, della letteratura, l'industria, la storia antica e recente, con un occhio sempre rivolto ai giovani, speranza del nostro futuro. Abbiamo ancora negli occhi le immagini delle stragi di Capaci e Via D'Amelio del 1992. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i due grandi magistrati che hanno combattuto tutta la vita per la legalità, simboli della lotta alla criminalità organizzata, sono entrambi raffigurati in questa moneta da 2 euro per ricordare a tutti di tenere ancora sempre alta la guardia. Sono molto onorato di essere l'autore di questa moneta da 2 euro realizzata in loro ricordo. In fase di progettazione, tra le varie immagini a mia disposizione, ho scelto una foto di Tony Gentile, divenuta in seguito icona dei due magistrati. Tony, in quello scatto, riuscì a cogliere la complicità e la profonda amicizia che univa i due magistrati. Questa è una moneta per non dimenticare. Due uomini di Stato, esempio indelebile di legalità e lotta alle mafie per la nostra generazione e tutte quelle future.